C'è un altro tema, se posso solo dire una cosa rapida. Prima, giustamente, il viceministro Tileri ha parlato dei 21 dati e dei 21 indicatori sui quali si stabilisce il colore di una regione. Sai che numero ha messo, cioè tra il giorno in cui si scoprono i sintomi e il giorno in cui ti vengono a fare il tampone? Sai la campagna quanti giorni ha dichiarato che passano? Cioè dopo quanti giorni noi andiamo a casa di un sintomatico a fare il tampone? Quanti giorni? Uno. Uno. E' il dato minore di tutta Italia. La campagna è l'unica regione italiana che dichiara che il giorno dopo la comparsa dei sintomi va a casa della persona a fare il tampone. Allora aspetta, aspetta. Dovrebbero dirlo a Ettore. E ci ha mandato questo filmato. Da Napoli sta vivendo un calvario e ha passato attraverso un calvario. Nessuno lo aiutava. Ascoltate. Cosa non ha funzionato? Medico di base, mai venuto a visitarmi. Medico di base, mai applicato in maniera chiara il protocollo che poi è stato invece descritto ampiamente dalla unità sanitaria territoriale. Cosa ha funzionato? L'USCA è sempre presente, l'ossigeno. Questo è stato possibile solo grazie alla capacità organizzativa e logistica di mia moglie e dei suoi contatti di solidarietà. Si può restare anche ospedalizzati a casa, ma ci vogliono i mezzi e soprattutto le risorse per poter gestire la cosa, altrimenti senza ossigeno si muore. Grazie. Grazie. Grazie.